Sì, ma che sta combinato, Padre a Parco? Padre a Parco, lascia. È normale che se devono sistemare qualche immigrato. Ma che li hai preso? Boh, ho sempre stato un po' un coglione, però così mi pare troppo. Hai sentito che forse voglio anche sul quartiere, Pia? Sì, vabbè, io lo voglio aiutare. Mi raccomando, voi assicuratevi che non possa passare nessuno. Se riescono a chiudere, è un bordello, ma è un bordello vero. Pioce, che cos'è un tiburtino terzo? Pare che sia un quartiere periferico di Roma. Qui dice che gli indigeni del posto l'hanno chiuso. Preparami un outfit da urlo, perché questa serie, le divening, lo andiamo a fare lì. Va bene che quelli fuori li lasciamo fuori che tanto ha più di macchissi in cula, però non è che tante volte quelli del quartiere possono uscire. Oh, ma che cazzo? Cazzo, ma chi è sto notto? Porti, corri, scappiamo! Mo ti devo da far vedere una cosa importante. Ma come cazzo, Bart? Ieri ho preso il tutto per fare un paio di posto, poi c'erano quelli che ciucciavano le batterie, poi il prestigiatore si è messo a fare una cosa schifosa con i vermi. C'è un stizio esploso così, boom! Allora, ma stiamo a sentire. In giro ci stanno sti vermoni che entravano nel naso da gente, e se ci riescono diventi uno che pippa i batteri oppure esplodi. Papà è uno di loro, però c'hanno una paura fottuta del coso che usi te per farse le unghie. Tipo, ma una roba, ma che se si avvicinano, esplodono e diventano una specie di pappetta. Quindi secondo noi dobbiamo utilizzare sto coso per sterminarli tutti. Ma io e te non ci siamo già visti. Abbiamo qui tra noi un'intrusa. Ok, lo ammetto. Sono di Roma Norte.